volare? mi hanno sempre detto che era una cosa da supereroi abbiamo sete di esplorare e scoprire posti nuovi questo è quello che ci spinge a volare quello che ci fa salire in alto che ci mostra che siamo e ci libera dobbiamo solo aspettare che tutto questo sia finito e quando sarà finito allora sì che riprenderemo a volare